Dopo Come Cantù, primi bambini vaccinati anche all'ospedale di Menaggio. Oggi infatti sono partite le somministrazioni anti-Covid a Menaggio per la fascia di età tra i 5 e gli 11 anni. Vaccinati, i primi bambini all'ospedale di Menaggio, ringraziamenti ai volontari della Croce Rossa, arrivati in compagnia di Babbo Natale, Elfi e Doni, si legge in un posto su Facebook della S.S.T. Lariana. Tre gli ambulatori allestiti in provincia di Como, dedicati soltanto ai più piccoli, con pediatri e personale specializzato e la collaborazione dei volontari. In Via Napoleona, a Como, l'ospedale di Cantù e quella a punto di Menaggio. Gli appuntamenti vengono garantiti durante la settimana nella fascia oraria pomeridiana, mentre il sabato e la domenica dalle 8 alle 20. Per le prenotazioni è possibile utilizzare la piattaforma regionale prenotazione vaccinicovid.regione.lombardia.it Ai bambini viene somministrato il vaccino Pfizer, ma in dose pediatriche, quindi ridotta rispetto a quella degli adulti. Sono previste due nezioni a distanza di tre settimane, l'una dall'altra. Le sede individuate dalla S.S.T. Lariana sono organizzate con percorsi dedicati e personale formato nella gestione del target pediatrico. Il giorno della vaccinazione i bambini devono aver già compiuto 5 anni. Lì deve essere presente un genitore che dovrà presentare il consenso informato e comunicare al medico vaccinatore che il bambino non è stato sottoposto alla somministrazione di vaccini vivi attenuati, come ad esempio l'antinfluenzale spray nasale, morbillo, parotite rosolie e varicella, nei 14 giorni precedenti e che non riceverà vaccini nei 14 giorni successivi.